Volevi sapere una cosa stupida? Specie se hai il dubbio che ci tiene bene. Adesso finalmente lo perdonerai. Cos'altro piste? Ci sono i carabinieri per queste cose. Ho un'idea di chi può essere stato. Quello che facciamo era molto pericoloso. Gli l'ha insegnato lei, no? Gli soltanto ti ammazzalo. Se viene a saperla, noi perdiamo tutto. Io sono una donna meravigliosa, ma fra otto mesi non ci sarò più. Le donne sono nuove. Era molto bella. Quando è morta pensava 35 kg. Così mi hanno detto. Ma lascia perdere questa storia. Perché? Non possiamo farlo noi. È troppo pericoloso. Guarda che ho chiesto delle cose. E perché ha smesso di fare il passore? Stavo diventando un altro mestiere. Sarai contattare. Non ci sarai. Si è tutto. Non ci sarai.